Nonostante 25 anni fa una legge ne abbia vetato l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione, l'Italia è ancora piena di amianto. Ma dove lo troviamo? L'amianto purtroppo è presente nelle nostre case, sui tetti di Eternit. Ci sono circa 20 milioni di tonnellate di questo materiale sui nostri tetti. È presente in tubazioni, in pavimenti di linoleo, di vinilamianto, piastrelle. La cosa grave è che una parte di questo amianto è arrivato negli ultimi anni. Oggi parliamo di piastrelle, di gress porcellanato, di sanitari, prodotti con materiale miscelato con tremolite. Questo è grave perché non è arrivato prima del 1992 ma c'è arrivato dopo. Arriva ancora dall'India per materiali militari. Questo è assolutamente inaccettabile. Di amianto si muore. Il mesotelioma è il tipico tumore d'amianto. Solo questa fibra killer può generarlo. Oggi però la letteratura scientifica sta riconoscendo anche altre patologie come asbesto correlate, adenocarcinomi e altri tumori. Secondo i dati del Ministero della Salute, ogni anno abbiamo in Italia circa 3.000 vittime dell'amianto e il picco deve ancora arrivare perché è atteso tra il 2021 e il 2025. Purtroppo sono stimati ad oggi circa 5.000 decessi per malattie asbesto correlate in Italia ogni anno. e chiaramente parliamo di malattie tumorali, tumori del polmone per metà e tumori della pleuromesotelioma. Per l'altra metà ci sono poi una serie di fibrosi importanti, di pneumopatie come appunto l'asbestosi e altre fibrosi polmonari. Ci sono malattie respiratorie ostruttive. Purtroppo in molti casi sono malattie che non lasciano scampo o che comunque riducono di molto la qualità di vita. Nel 2015 un ispettore dell'ASL di Viterbo trova tracce di amianto nell'azienda Minerali Industriali di Gallese nel distretto di Civita Castellana dove si produce il 70% delle ceramiche sanitarie italiane, lavabo, water, piatti doccia e bidet. Secondo l'Osservatorio Nazionale Amianto sono 2.400 le scuole contaminate dalla fibra killer, circa 300.000 tra studenti e lavoratori sono esposti. Se ne parla in Asbest School il documentario realizzato da Stefania Divertito e Luca Signorelli, un viaggio nelle scuole contaminate e tra le 400 leggi tra nazionali e regionali che ne regolamentano il monitoraggio. Numeri che lasciano perplessi. Qualcosa dal punto di vista normativo non ha funzionato. È necessario controllare le attività estrative perché una parte dell'amianto che è arrivato nei nostri piatti con le ceramiche nei nostri pavimenti negli ultimi anni è derivato da un mancato controllo relativo appunto alle attività di estrazione. L'Italia è un paese purtroppo molto ricco di amianto a livello geologico ed è necessario evitare che quando il materiale è ricco di fibre di amianto possa entrare nella filiera produttiva come sembra sia avvenuto nelle ceramiche. Chiaramente parleremo di cose all'attenzione delle procure di Vitergo, di Nuoro, chiaramente loro faranno il loro lavoro però noi facciamo il nostro per migliorare la normativa. Manca una mappatura completa e c'è la incapacità purtroppo fino ad oggi delle istituzioni pubbliche a far fronte a questo problema. Come osservatorio abbiamo denunciato questa situazione fin dagli anni 2008-2009 e nel 2012 abbiamo presentato il nostro studio che poi è stato confermato dal Censis e dal Legambiente per cui praticamente 2400 scuole con presenza di amianto, 350.000 studenti esposti e 50.000 tra docenti e non docenti. Quindi noi insistiamo affinché il Governo, i Ministeri, le Regioni, le Province e tutti gli enti competenti provvedano al più presto non solo alla bonifica dell'amianto ma anche alla messa in sicurezza e all'ammodernamento delle nostre scuole. Dal Governo non c'è stata nessuna risposta alla vostra denuncia? No, soltanto il Governo Letta si impegnò con 150 milioni di finanziamento a fondo perduto. Per il resto tutti quanti gli altri governi non hanno agito concretamente per risolvere in modo efficace questo problema. Naturalmente la loro azione è stata allo Stato ancora, non è del tutto efficace. Un altro nodo cruciale in questo intrigo di norme è la rimozione sicura. Ma quanto costa rimuovere l'amianto? Si arriva a 2000 euro a tonnellata per una filiera di amianto, è una cifra esagerata, è una cifra folle. Se avessimo stoccaggi a filiera a corda, stoccaggi definitive, piccole discariche per ogni provincia o per ogni contesto da un milione di abitanti, se avessimo la possibilità per i cittadini di rimuoverlo solo per conto loro con i kit di sicurezza, si arriverebbe da 2000, si arriverebbe a circa 500, quindi si risparmierebbero i tre quarti della cifra. Dagli 80 miliardi stimati per liberarci dell'amianto si potrebbe scendere a 20. Chiaramente ci vuole più attenzione, bisogna passare le idee corrette di riduzione massima del rischio, su una piccola discarica in sicurezza fatta nel luogo giusto, è molto meglio che l'amianto abbandonato o in condizioni assolutamente precarie, perché un amianto anche su un tetto, anche se l'amianto è intero, se prende fuoco, se c'è un incendio, se c'è una tromba d'aria, ce lo ritroviamo nelle fibre, o purtroppo anche se c'è un sisma, stiamo vedendo la tragedia di Amatrice, dove tra tutti gli altri problemi c'è anche quello delle fibre di amianto, ce ne sono tantissime nell'area di quelle zone, perché quelle case erano piene di amianto, dalle fondamenta fino al tetto. Grazie.